423 nuovi casi oggi in Abruzzo, il 12% dei 3.543 test processati nelle ultime 24 ore, 162 nell'Aquilano, 105 nel Chietino, 40 nel Pescarese e 115 nel Terramano. Si tratta di persone d'età compresa tra 4 mesi e 100 anni, 181 delle quali sono riferite a focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 568, di età compresa tra 75 e 83 anni, uno in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Teramo e due in provincia di Chieti. Le attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 8.032 più 422 rispetto a ieri, 427 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 36 meno 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 7.569 più 389 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.